Civita Nova Danza è arrivata alla 22esima edizione, inaugurato il Festival Internazionale nel nome di Enrico Cecchetti con Civita Nova Danza in Famiglia. Una festa per aprire l'edizione 2015 del Festival Internazionale promosso dal Comune di Civita Nova Marche, dai Teatri, dall'AMAT. Evento realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Macerata, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione e la Provincia. È un'idea che ci è venuta perché ci piace sempre far capire che la danza è davvero per tutti. Mancava un pezzo, abbiamo in realtà fatto degli spettacoli di danza per bambini in passato, ma mai inventarci un contenitore. Poi i contenitori sono importanti, come è accaduto per il Festival nel Festival, perché poi portano i contenuti. In questo caso l'invenzione di quest'anno è Civita Nova Danza in Famiglia, che è un progetto che vogliamo portare avanti. Soprattutto iniziando come faremo, quindi aprendo un festival che oggi la Repubblica definisce come il più bello dell'estate italiana, proprio con i più piccoli che sperimenteranno già i primi passi di danza con una coreografa a tutti gli effetti, perché Mara Cassiani è in programma e quindi abbiamo voluto una cosa di animazione per i bambini, ma proprio un incontro tra la danza e i più piccoli. Civita Nova Danza ha preso il via con i bambini e il loro micro laboratorio di danza curato da Mara Cassiani. I bambini erano nel parco con l'artista, mentre i genitori li seguivano dalla terrazza della biblioteca a Zavatti. La regista e coreografa attiva nella danza e nella performance, dopo essere stata con i bambini, la ritroveremo a Civita Nova l'8 agosto alle 20.30 al Teatro Cecchetti con la prima assoluta Justice. Oggi con i bambini abbiamo fatto un lavoro sulle linee e sulla danza come linea nello spazio, quindi allontanandoci un pochino dall'idea accademica della danza per dare spazio proprio al disegno, alla creatività e avvicinarlo a quello che è per loro appunto il disegno. L'8 agosto presento Justice, che è una premiere del mio lavoro, finalmente nella mia regione lo presento. È un lavoro che parla di legame tra passato e futuro nel corpo e nell'arte visiva e nell'arte dell'immagine e dei media. Dopo il micro laboratorio di danza per bambini e la pericena con DJ Set, al Teatro Cecchetti si è svolto lo spettacolo Sherlock Holmes di collettivo cinetico, una delle realtà più interessanti della scena contemporanea. Siamo molto contenti di questa giornata e poi proseguirà con uno spettacolo che ho amato molto, di un'altra coreografa molto amata che è Sherlock Holmes, in cui i bambini saranno chiamati a trovare le tracce di uno spettacolo di danza. Quindi un'apertura che sembrerebbe minore ma invece per noi è una scommessa sul futuro che ci fa davvero piacere. Non è mai troppo presto e per questo per loro è questo omaggio d'apertura, ma la loro energia è quella che dà forza a tutto il festival. Parliamo di questo ricco cartellone, di questo evento che davvero qualifica Civitanova Marche e il territorio marchigiano a livello nazionale non solo. La danza è il linguaggio più internazionale che c'è, quindi ci si può divertire come abbiamo fatto quest'anno chiamando appunto coreografi ormai in un meticciato culturale davvero di difficile districabilità. L'8 agosto avremo al Teatro Rossini dove un coreografo franco algerino lavora con i ragazzi della ballia di Parigi e poi arriva in prima italiana appunto a Civitanova. Penso alla serata di grande interesse, di grande fascino come quella con Alessandra Ferri che è insomma la punta d'eccellenza sicuramente, ma anche ai 40 che danzeranno nello spettacolo di Olivier Dubois che proprio stamattina alle 8 sono partiti per andare a preparare il lavoro a Bolzano, festival con cui condividiamo la proposta. E quindi è questa curiosità che ci guida tutto l'anno a trovare occasioni, offrendo anche occasioni perché ci sono molti progetti di residenzialità, avere una casa come quella della Foresteria Imperatrice Eugenia è molto importante perché da una settimana Enzo Cosima ad esempio è lì a lavorare per debuttare col suo nuovo lavoro. Questa 22esima edizione non ha spento né la curiosità né l'interesse nostro e da parte del pubblico, da parte dei critici e questo è uno sprone per andare sempre più avanti per farsi appunto che la città di Enrico Cecchetti possa essere sempre più un centro di proposte davvero esclusive. Ricco cartellone 20 per Civitanova Danza, prossimi appuntamenti per la Notte delle Stelle, martedì 28 luglio, appuntamento alle 21.30 al Teatro Rossini con Alessandra Ferri e Herman Corneio, Evolution, prima esclusiva regionale. Sabato 8 agosto alle 16.30 all'hotel Miramare Civitanova Danza Focus. Alle 19 a Lido Cluana torna all'Happy Dance Hour a cura delle scuole di danza della città. Alle 20.30 Mara Cassiani di nuovo si esibirà al Teatro Cecchetti con Justice, prima assoluta. Al Teatro Rossini poi alle 21.30 ci sarà la prima italiana Compagnie Eddy Mahalem. È una sinergia che ormai si ripete da anni, l'azienda è un antistrumentale all'amministrazione insomma quindi c'è una collaborazione molto stretta ma la struttura dell'AMAT per Civitanova Danza è un grandissimo supporto per questo festival, un festival internazionale che ogni anno insomma ospita artisti di assoluto livello. La caratteristica di Civitanova è quella di avere tre teatri che sono quelli che noi gestiamo tutti climatizzati quindi ci permette anche d'estate di fare una programmazione di altissimo livello. Civitanova Danza effettivamente dà una grandissima soddisfazione alla nostra città perché dà risonanza nazionale ma anche a livello internazionale insomma qui affluiscono oltre agli artisti anche tantissimi operatori del settore per cui questo dà proprio la possibilità di avere una cassa di risonanza importante però ecco insomma è veramente penso una cosa molto importante per la città partita tra l'altro nel nome di Enrico Cecchetti per cui è un festival che è legato all'identità, alla storia e alla tradizione di Civitanova. Dal 3 all'8 agosto al teatro Rossini e alla palestra Leonardo da Vinci programma intensivo di Danza per bambini e ragazzi dai 9 anni in su. Ci saranno a disposizione dei giovani i migliori maestri europei. Frederick Olivieri, Florence Clerc, Paola Vismara, Elisa Scala, Fabrizio Monteverde. Termine ultimo per le iscrizioni il 23 luglio. Regolamento e modulo di iscrizione sui siti civitanova danza.it e amatmarche.net